L'inclusione dei bimbi sulle ali dei pesci con i centri estivi targati poste italiane. Un'estate all'insegna dello sport, della salute, dell'inclusione e della solidarietà. Ad offrirla sono i centri estivi organizzati dalla ONLUS, le ali dei pesci, a Roma presso la struttura di Tor di Quinto Sapienza Sport e dedicati ai bambini e bambine con disturbi del neurosviluppo infantile in un progetto che ha visto anche quest'anno il sostegno di poste italiane. Le famiglie, soprattutto in questo periodo dell'anno, quando finiscono le scuole, e addirittura quest'anno abbiamo deciso di prorogare il centri estivo grazie ai finanziamenti delle poste, anche a settembre, le famiglie si trovano senza una valida alternativa. Noi invece offriamo questo centri estivo integrato per una bellissima cornice che è quella di Sapienza Sport. Tante le attività previste, dal rugby ai giochi sportivi all'aria aperta, nuoto e divertimento nella grande piscina scoperta, fino alle attività più rilassanti al fresco dei locali, seguiti costantemente da operatori ed educatori specializzati, uno per ogni bambino, in continuità con i percorsi terapeutici dei piccoli con disabilità, che non rischiano così di perdere i risultati e i preziosi progressi raggiunti durante l'anno. È andata molto bene quest'estate, abbiamo dato la possibilità a quasi 50 famiglie di Roma di partecipare a questo centro estivo, in questa splendida location che è Sapienza Sport, quindi dobbiamo ringraziare oltre a Poste Italiane anche Sapienza per averci dato l'opportunità di essere qui in quest'estate. Il progetto è un progetto importantissimo a cui Sapienza tiene in maniera particolare. Le parole chiave sono sport e inclusioni, quindi mettere a disposizione le professionalità e le strutture di Sapienza Sport, con sostegno anche di tutti i nostri professionisti, anche in formazione per persone, in questo caso bambini, nello spettro autistico, conferma ancora una volta l'importanza dello sport per l'inclusione. Intanto il sostegno di Poste Italiane alla Onlus, le ali dei pesci, non si ferma qui. Il centro estivo quest'anno proseguirà tutto l'anno con un progetto con il calcio con Poste Italiane. Qui nella cornice di Sapienza Sport diventeremo la squadra mascotte dei piccolini delle Poste e quindi da settembre inizierà questo corso di calcio per bambine e bambini aperti, aperto a tutti, aperto anche a tutti i figli dei dipendenti delle Poste e gratuite.